Parte la nuova edizione dei balletti del Festival di Nerni, una edizione molto attesa che si compone di 15 appuntamenti, dei quali 9 dedicati alla danza e 6 ai concerti. Nel 2022 c'è stato un grande successo che contiamo di ripetere. L'inaugurazione è prevista per il 2 di luglio con una serata dedicata alla grande musica di Rachmaninoff, interpretata al pianoforte tra gli altri dalla grande pianista internazionale Beatrice Rana, con le Tual di Vaglia internazionale che saranno al suo fianco. È una prima assoluta per il Festival di Nerni, insieme con altre prime assolute che si svolgeranno e uniche date per l'Italia di balletti molto importanti.